Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Il reality show più chiacchierato d'Italia è tornato sul piccolo schermo, ma sembra che il trash non abbia voluto aspettare nemmeno una puntata. Il grande fratello ha promesso una nuova edizione, pulita e rispettosa, ma la polemica si è scatenata già durante la prima serata. Il cuore della controversia riguarda un collegamento in diretta con i colleghi di Giselda Twosian, una delle nuove protagoniste del programma. Nel momento in cui Giselda stava ringraziando i suoi colleghi per averla convinta a partecipare, l'emissione ha fatto un collegamento video con il suo ambiente di lavoro. La scena avrebbe dovuto essere un momento di gioia e di festa, ma si è trasformata in qualcosa di completamente differente. Un collega di Giselda, salutandola in diretta e puntando gli occhi verso la telecamera, ha eseguito un gesto volgare. Sebbene l'atto in sé sia durato pochi secondi, non è sfuggito all'occhio vigile di alcuni telespettatori, che hanno prontamente condiviso il video su Twitter, facendolo diventare virale in pochissimo tempo. Quello che ha sorpreso molti è stato il fatto che il video in questione sia rimasto disponibile sul sito ufficiale di Midies at Infinity, suggerendo che la produzione potrebbe non aver notato l'incidente in tempo reale. Il conduttore, Alfonso Signorini, noto per la sua predilezione per le sorprese, aveva fatto di tutto per far sentire Giselda ben accolta nella casa del grande fratello. Ma ciò che doveva essere un momento di celebrazione si è trasformato in una fonte di imbarazzo. Sebbene il gesto sia stato fatto da un individuo in secondo piano, che poco dopo sembrava quasi pentito della sua azione, l'incidente solleva domande sulla supervisione e sulla moderazione del contenuto trasmesso in diretta. In un'era in cui i dettagli possono essere facilmente catturati e condivisi in tempo reale, gli show in diretta devono essere sempre più attenti. Sarà interessante vedere come il grande fratello affronterà la questione nei prossimi giorni. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.